Il consigliere comunale Angelo Rossi lascia il gruppo di Oraghinelli con il quale era stato eletto nelle ultime amministrative. Rossi adesso confluirà nel gruppo misto assieme a Roberto Bardelli, ex Forza Italia, e Paolo Bertini, ex Fratelli d'Italia. Anzitutto ci tengo a sottolineare che non si tratta di un motivo politico, si tratta di un motivo strettamente personale che mi ha portato a maturare questa decisione. Io confermo quindi che c'è la mia appartenenza alla maggioranza e comunque c'è il mio appoggio al sindaco Oraghinelli. Rossi era stato il secondo esponente più votato della lista nelle scorse elezioni dopo Gianfrancesco Camurrini. Nel corso di questi due anni non erano comunque mancate le divergenze con gli altri componenti del gruppo Oraghinelli con la stessa maggioranza, come ad esempio la posizione critica presa da Rossi in merito all'ordinanza firma del sindaco Oraghinelli per limitare la vendita ed il consumo di bevande alcoliche. Quando si parla di politica si può anche avere delle opinioni divergenti. L'importante è guardare quello che si ha in comune rispetto alle differenze che ci sono. Quindi da quel punto di vista lì la dialettica è importante, fa parte della politica stessa. Quindi secondo me non è un problema avere delle opinioni anche divergenti allo stesso tempo, cioè nella stessa maggioranza. Il problema è avere, sembra, qualche problema personale interno di un gruppo che non ti trovi più adeguatamente a tuo agio e allora a quel punto fai una scelta di questo genere. Grazie.